Allora, sapete che io sono amante dei photoplay in una maniera spropositata, cioè si può dire che sono quasi malato di questi arcade. Oggi ci è arrivato un pacco molto speciale riguardante appunto i photoplay, perché qui all'interno di questo pacco c'è veramente di tutto e di più. Pacco preso da ebay in un'asta, ho fatto un'asta che mi sono giudicato per pura fortuna. Allora, ammetto già in anticipo che il costo di questo pacco è stato veramente assurdo, infatti stiamo parlando di 91€ di spesa più 15€ di spese di spedizione. Ma gioco ne vale la candela e dopo vi spiego anche il motivo. Allora, intanto ho già aperto un pochettino il pacco, ma non ho guardato ancora il contenuto all'interno, perché lo voglio guardare insieme a voi. Allora, all'interno vediamo carta, una scatola, e già qua partiamo da una cosa interessantissima. Manual service box, questo è il manuale che non si trova facilmente, del macchinario che serve per la clonazione degli hard disk del photoplay in italiano per di più. Quindi è una rarità italiana, a parte che ha un odore di muffa, è una maniera impressionante. Però, comunque, il manuale è ancora quasi in ottime condizioni. Infatti qua abbiamo tutte le spiegazioni del suo utilizzo, come funziona, come funziona la copia dell'hard disk, caricare la pubblicità dal disco. Ecco, addirittura ci spiega come caricare diverse cose che non era spiegato. Infatti deve avere formato PCX, dei colori esatti, gamma principale. Cioè, insomma, qua spiega anche come si mettevano le pubblicità all'interno del photoplay, cosa che, ripeto, non è da tutti. Salvare la pubblicità su dischetto, addirittura su dischetto, è incredibile veramente, ragazzi. Poi qua la preimpostazione del photoplay, in modo che venga rilevato il dischetto. Insomma, e qua addirittura, ecco i dischi fissi in piega. Addirittura qui abbiamo il manuale dove ci viene mostrato come funziona, o meglio, quali hard disk utilizzare sul photoplay. Già qua si aprono veramente infinite nuove cose che scopriamo subito da questo manuale. Quindi veramente molto interessante. Adesso lascio la parte perché voglio andare a vedere altro. Qua c'è una targhetta con un punto di domanda, ma non ho capito perché, ma forse non c'entra nulla. Qui cosa abbiamo? Oh, qua abbiamo altri manuali. Quindi, manuale iGo 6. Ovviamente manuali originali di quei tempi. Dove ci viene mostrato, no, sono i manuali in inglese, italiano e tutto, per l'installazione del dangle e tutte queste cose. Stiamo parlando veramente di cose che non si erano mai viste prima. Cioè, il computer museo è da 5 anni. Sai che trattiamo un photoplay? Ma questo praticamente per me è come Natale, perché update 2005, iGo 2005, 2001, 2004. System update, questo è per Windows XP, in teoria dovrebbe essere. Infatti, Windows XP, iGo 5, iGo 5, iGo 5, iGo 4, iGo 4, iGo 1, 1, 1, 1. Cioè, insomma, come vedete ci sono diversi manuali. Poi, qui c'è una scatola. Vediamo cosa è questo. Queste mi sa che sono tutte le dangle. Oh, queste sono tutte le dangle originali photoplay. Guardate, guardate quante dangle ci sono all'interno. Cioè, è una cosa stupenda. Inoltre c'è anche questa, che volevo provare assolutamente. Assolutamente, anche se c'è scritto I, ma non è specificata la versione. Però hanno addirittura le prime dangle di sicurezza del 99. Guardate come erano grosse. Queste sono tutte le dangle, che poi dovrò andare anche a testare per vedere se funzionano. Qui invece abbiamo, ah, qua abbiamo delle cose interessantissime, anche qui. Qui abbiamo i dischi, infatti che hanno usato, vabbè, hanno utilizzato dei sacchetti che, posso dire, più zozzi di così non possono essere. Qua abbiamo i dischi dell'edizione 01 di iGo, che iGo 1 non credo neanche di averla avuta. Perché noi abbiamo update 01, questa è una versione che non abbiamo mai visto. Perché iGo 1, Photoplay, Powerpack, non credo di averla mai vista. Due cd tra parentesi. iGo Italy, che è famosissima versione rara per di più. iGo 5, iGo 5 con, non so se è la versione per Windows, no, è la versione due dischi, quindi sempre PTS DOS. Licenza e manuale, licenza e manuale, non so cos'è, questo sarà molto interessante, ma vedo già qua un'edizione tipo 2007. Qua c'è un disco di fuori, così a caso, è uscito. iGo 8, licenza e manuale di iGo 8. iGo 5, iGo 8, Photoplay, però questo mi sa che è la versione per Windows, mi sembra di capire. Non riesco a capire, però in tutto questo ci sono i due dischi, c'è un altro sotto. Non riesco a capire, sinceramente questa versione, se è la versione, boh, mistero. Poi abbiamo, sempre edizione 1 di iGo 1. Ah, BIOS Update, Photoplay, questo è un disco masterizzato dell'update. poi abbiamo iGo 5, questo non l'avevo notato, non l'avevo visto, update 2000, raga. Raga, questo è raro, questo è raro, update 2000 è rarissimo, perché io ho la versione ma non mi funziona. Mentre questo è il cd originale, iGo 4, iGo 4, iGo 6. Quindi, devo dire che mi pare che ci siano tutte le versioni. Poi, inoltre, qui abbiamo all'interno anche i vari caddy che una volta si... Questi, vabbè, questi sono marshi. Questi credo che li butterò via direttamente senza neanche utilizzarli. Infatti questo è rotto completamente, si è spaccato completamente per l'entrata vecchio. Questo è un caddy, anche lui, da buttare via. E qua, dentro, c'è un disco. C'è un disco con su scritto iGo 3. Vediamo se è veramente così. 2003, effettivamente, original update 99, però. Stupendo, stupendo, veramente. Si aprile 1999, è veramente stupenda tutta questa roba. E niente, volevo farvi vedere un pochettino quello che ci è arrivato. E probabilmente arriveranno nuovi video su Computer Music, quindi preparatevi. Grazie.